Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Sulla Siena-Firenze, traffico bloccato per incidente avvenuto nei pressi del bypass tra San Casciano Nord e Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Per questo incidente in A1 code in uscita a Firenze in Pruneta provenendo da Bologna. Sempre in A1 in direzione Roma, rallentamenti per veicolo in avaria tra il bivio con la variante di Valico e Badia, code tra Firenze-Scandici e Firenze in Pruneta e rallentamenti tra Firenze-Sud in Cisareggello. In A11, 4 km di coda per incidente tra Pistoia e Monte Catini verso Pisa. In Filippili, code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandici verso Firenze. Per i cantieri della linea 3 della tramvia a Firenze, stanotte in orario 21.6, lavori e sotto servizi nel controviale di Viale Strozzi all'altezza di Via Dolfi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!